Qual è il tuo rapporto con il fiume? Guarda, in realtà è la prima volta che vengo. Sono dall'avvenimento apposta per stare qua oggi. Per me è perfetto, è in natura, tranquillo. A me piace molto. Le nuove generazioni non sono più a stretto contatto con la natura ma il posto è bellissimo, per fortuna è sempre molto pulito quindi ci teniamo molto alla salvaguardia dell'ambiente e ci teniamo anche a non sporcarlo a renderlo sempre, a lasciarlo sempre come l'abbiamo provato quando siamo arrivati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, mi piace molto venire qui, è un posto dove si sta tranquillo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.